La storia di Rosa Luxemburg meriterebbe di essere ricordata e raccontata perché è una delle teoriche più straordinarie del marxismo in generale anche sull'economia, quindi una cosa non consuita, non frequente tra le donne. Nella sua vita ci sono sempre questi gesti imprevedibili, non allineati, non era un buon soggetto per niente, ma era una persona di straordinaria intelligenza, di grandissima generosità, anche ricca, colta, amante della musica, veramente straordinaria. Fu la prima che corresse alcuni errori di analisi economica di Karl Marx, cosa che non viene mai riconosciuta, non capita mai di sentire Marx, Engels, Luxemburg. Engels era sicuramente meno intelligente di lei, sempre citato, è la teorica, secondo me, della rivoluzione che più di tutte ci ha appreso. Rosa è la prima che ha esaminato le crisi capitalistiche dicendo che quando il capitalismo diventa irriformabile o socialismo o barbarie, cioè se tu lasci andare la crisi capitalistica alla sua spontaneità non viene la rivoluzione, viene la barbarie, cosa di cui non c'è bisogno di dare dimostrazione perché è quello che sta succedendo proprio. Quando c'è davvero una situazione di crisi capitalistica non rimediabile, non riformabile, non reversibile, però l'unica cosa che tu puoi fare è la rivoluzione culturale. Questa è la cosa che mi sembra più utile dire di lei, quella per cui la ricordo con tanta simpatia e mi piace di averla anche dove lavoro, il suo volto, questo riguardo intenso, insomma mi piace.